Sulle proteste in questo Paese si fanno comitati su tutto ciò che deve essere fatto, per cui non credo che si ripossa neanche a dare, perché se non va bene neanche lo sport, se non va bene un'Olimpiade che è la massima rappresentazione dello sport, nella quale non abbiamo fatto praticamente nulla di nuovo, salvo la pista da Bob, se non va bene un'Olimpiade che è stata definita dal cio medesimo la più sostenibile della storia delle Olimpiade, non si può neanche reagire a queste affermazioni, non si può dire niente, vanno avanti a contestare.